Nella settimana di Natale il Minimix tocca il numero 25 e ospita una guest mondiale, Babbo Technic. Io sono Dylan e Babbo Technic ci regala 5 minuti di funky, cuffie in testa e mani nel sacco dei regali Technic. È tempo di Minimix, è tempo di Funk de Christmas, mentre Babbo Technic mi fa ballare. Io vi polarizzo un buon Natale. Technic Minimix Downstairs Project, Ballet Pro Figures, J-Funk Remix. Autore dei sottotitoli e dei sottotitoli. Autore dei sottotitoli e dei sottotitoli. Silver City, Down Till 7. Link from every stomach vocal. Minimix Minimix. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.